Di seguito sono riportati gli episodi Moviola delle due razze, aprono il giorno della serie A. 202.324 Massimizing Arelli Scatragli Vmanganiello Var, Valeria Vargariglio 75, Giuric riceve palla. L offside e dopo un primo colpo ha deviato i sacchi sotto la croce. La bandiera assistente è. Sollevata. 68 gamba della gamba grassa da Widowicz. Un altro giallo Empoli. 66 il giallo anche Empoli. Cacace è avvertito uno stretto su Ongla. 57. Incursione centrale di Baldanzi, che giace da Magnani intervengono in ritardo punto per lo scaligeri. 44 duda fallo da dietro. Baldanzi. Admonition lo Slovacco. Marcinar Cecconi Bercigli Vpennavar Paolovar Serra 88 e vorrebbe una sanzione nell'atterraggio. No fallo. Egli Vard è avvertito. 84 raspadori tenuto sul contr. Giallo per 45 stende Osimen e prende l'avvertimento. 39 warned. Cattivo fallo su bias. Beginning batti e risposte che portano alla rete raspadori. Cancellata. 26 folita on the trocar Frosinone di. Giallo lui. 24 alcune proteste Frosinone per intervento disupuale dell'obiettivo politano. 13 anche tra. Gli ammoniti. Farlo ostruzione su un contra. 12 farglio dying pressure. Iello il fullback. 5 farò in irvenuta.